Nei giorni scorsi la seconda giornata del campionato di terza categoria dei gironi EF. Nel girone E il derby cittadino fra centro storico Sassari e Willier è terminato per 2-1. Il deportivo Badelonga con un 4-0 ha battuto il Nugei du San Nicolò, sorte uguale per lo Zierese Junior che ha perso per 4-0 per mano del Minerva. Invece Sportinguri e Tesina termina 4-2. Infine rinviata la gara fra Alghero 1945 e Totubella. Nel girone EF la Fulgor Sassari perde 6-1 contro Coda Ruina Valledoria. I Lipunti conferma il primato imponendosi 1-0 nei confronti dello Sporting Paduledda. La Ciaccia ha vinto 2-1 contro il Santa Lucia Senori, mentre il confronto tra i Porto Torresi dell'Ale Castiglia e l'Isola Rossa termina 3-2. In conclusione Chiara Monti ha sconfitto l'Andrea Doria a Sedini 2-0. Ora l'appuntamento è per sabato 6 e domenica 7.